farò solo un piccolo taglio qui oh, preso funzionerà alla grande manca solo un bastoncino perfetto un nuovo pennello ehi hai un nuovo pennello dove l'hai preso? cosa hai fatto? sei veramente pessima finalmente sono arrivato al bar una coca per favore ciao bellezza ecco a te, una coca quella è mia non ti preoccupare l'aprirò per te ci sono quasi è una bottiglia complicata ok, basta così ho i miei metodi grazie cosa? hai usato un piegaciglia salute com'è fresca buona serata battuto da un piegaciglia di nuovo in punizione bene, conoscete la procedura? copiatela 500 volte ci vorrà un'eternità 500 volte sono proprio tante io non salterò mai oh cavolo ho già i crampi alla mano di questo passo rimarrò qui fino a domani oh, quando ero giovane ne ho scritte abbastanza no non ci sono neanche vicino eppure ci deve essere un modo ehi, aspetta la soluzione è proprio davanti a me è ora di incollare tutte queste penne in questo modo meglio incollare anche l'altro lato mi servono belle attaccate fatto sono pronto iniziamo io non salterò mai funziona posso scrivere quattro righe alla volta sono veramente un genio che furbata non posso credere al tempo che ho risparmiato fatto l'ho scritta 500 volte sei stato molto veloce oh, aspetti ho dimenticato il resto ecco a lei hai chiaramente imparato la lezione che bravo ragazzo sono proprio contenta oh, ora devo solo contarli non ci posso credere è andato oltre 5000 questo pezzo è incredibile mi tocca tanto vale alzare il volume mentre cucino vediamo cosa abbiamo oh no il frigo è praticamente vuoto c'è solo questo vecchio cheeseburger magari potrei farci qualcosa no no, sei indurito via nella spazzatura ehi penso di aver trovato la soluzione verserò un po' d'acqua in questa ciotola e ora insuppiamo l'hamburger fatto sul piatto a cuocere nel microonde pronto ha anche un buon profumo ci vuole qualcosa da bere anche ciao sono tornato wow hai preparato il pranzo grazie sembra ottimo proprio buono grazie meno male che ha funzionato sono proprio stanca un bagno mi rimetterà in sesto prima spazzoliamo i capelli così non si annoderanno perfetto e adesso il bagno ma cosa? oh no dove è finita l'acqua? il tappo si è rotto da dove viene questo buco? come faccio a fare il bagno adesso? tutto rovinato guarda ho gonfiato un palloncino ehi prendilo oh grazie molto carino aspetta hai appena risolto il mio problema grazie oh se l'è portato meno male che ne ho altri bene è ora di mettersi al lavoro tagliamo la parte posteriore di questa siringa dopodiché passiamo al palloncino arrotoliamolo in questo modo perfetto ora mi serve il pezzo che ho tagliato dritto nel palloncino aggiungiamo un po' di colla a caldo molta colla non facciamo i tirchi una volta asciutta togliamo la parte di plastica estraiamola con cautela e facciamo un nodo e vai il mio nuovo tappo è pronto eccellente fa rimanere l'acqua nella vasca questo è ciò che mi serviva super rilassante questo slime è così divertente ok devo ritoccare il fondotinta perfetto e per finire una spazzolata veloce wow sto benissimo ehi jeskier come sei carino vieni qui un po' di coccole oh sei così morbido e dolce che sta facendo ehi perché lo hai preso ok sei finalmente pronta sei sicura di voler uscire così oh no non guardare che pasticcio aspetta un attimo lo slime tira via lo sporco ho appena risolto il problema lo tampono sulla parte sporca così prenderà tutti i peli e il trucco molto meglio e chi pensava che uno slime fosse così utile ehi sembra anche meglio di prima forza andiamo qualcuno sta guardando? no? ok eccellente ho fatto la foto al telefono via vecchia custodia ho stampato la foto che ho fatto l'ho ritagliata e incollata bene bisogna coprire tutto il retro della foto in questo modo la applico prima che si asciughi va allineata perfettamente grande ha funzionato ora c'è lo schermo su entrambi i lati ciao wow guarda che telefono lo so è fantastico vero? quanto è figo che invidia ahem cosa hai lì Matthew? conosci le regole? dallo a me e questa cos'è? ah è solo una foto incollata voi ragazzi di oggi siete così strani si sa com'è tutto quel lavoro per nulla useresti qualcuno di questi trucchi? scrivicelo nei commenti non dimenticare di condividere il video e di iscriverti al canale così da vederne tanti altri ancora grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti